Buon salve ragazzi, qui è Virtus e oggi sono qui con il gameplay che vi avevo promesso durante il mio episodio della classe non è acqua con la mia moab interamente di spawnkill. Ok, vi starete chiedendo perché dannatamente 20 minuti di moab di spawnkill? Teoricamente dovresti metterci poco e niente per farla. Beh, perché nel frattempo ho fatto altre 3 moab e ho deciso di mettervele tutte assieme perché non sono bellissime, sono bene o male di spawnkill ma diciamo che poi vi spiegherò. Dovendo comunque fare un commento di 20 minuti su un argomento ho pensato che o inizio a parlare del senso della vita oppure 20 minuti su un argomento non ce li trovo. Quindi cercherò di farvi una sorta di diciamo commento alla partita e questi gameplay sono la chiara comunque dimostrazione che chiunque ma veramente chiunque è in grado di prendere la moab, se ce la faccio anch'io. Quindi possiamo incominciare col commento alla partita. Allora, qui c'ho l'L86 con i caricatori modificati e il calcio perché comunque me la devo giocare da in piedi e sparo, sparo ancora, sparo, sparo, aspetto che gli avversari escano e poi sparo. No vabbè, diciamo che il commento alla partita non è poi così tanto divertente. Quindi a meno che succedano cose proprio particolari non vi posso dire bene o male cosa sta succedendo. Oppure verrebbe fuori un commento della serie sparo davanti al loro spawn, sparo davanti al loro spawn e sparo davanti al loro spawn. Comunque come state vedendo adesso mi sto cagando un po' in mano perché hanno cambiato lo spawn. Ma riesco a prendere l'ultima kill e chiamo la moab e diciamo che questo primo pezzo di gameplay è abbastanza rapido, dura sennò un due minuti, è abbastanza veloce ed è la prima mob di cui vi ho parlato. Adesso le prossime due saranno su Terminal e saranno seguite da una di Dome. Ma direi che possiamo voltare pagina. Eccola qui, su Terminal sempre con l'L86 questa volta con i caricatori aumentati e il mirino termico. Questo perché? Perché c'è un bug, non so se chiamarlo bug in poche parole, l'L86 e penso in genere le mitragliatrici leggere non ne sono sicuro però posso darvi per certo l'L86. Con il mirino termico sono tanto ma tanto più precise, guardate, sembra un cecchino, non balla assolutamente, non ha il ben che minimo rinculo e in più con i caricatori aumentati è veramente una cosa perfetta. Però io in questi due gameplay su Terminal cosa faccio? Non ho mai, diciamo mai, fatto spawn kill su Terminal, quindi quella da dietro i cassonetti sparando su A. Però mi piace dare una mano a far fare spawn kill su questa mappa. E questa è la mia solita postazione, difatti anche la prossima mob sarà in questa zona. E questa è la postazione, non dico la più importante, però è fondamentale per difendere quelli che stanno facendo spawn kill. Perché tengo B e quindi da B riesco a evitare che gli avversari prendano le bandiere. E poi quando vado in top Terminal, quindi in cima dove c'è per intenderci il cassone che esplode, il barile che esplode, quando vado in cima riesco anche a tenere C. Quindi è una posizione ottima e se come in questo caso non si ha una squadra di esperti spawn kill listi, è fondamentale perché più che una squadra di spawn kill sembra un colabrodo. E quindi stare in quella zona, come vedete anche adesso, o vedrete dopo, difendo molto spesso i miei compagni dietro le casse. Quindi è una zona direi fondamentale per far spawn kill, anche se di solito quando la si fa, anche nei tutorial che magari vedete su Youtube di come far spawn kill su questa mappa, questo posto viene un po' snobbato. Cioè sì, dicono che c'è, però non mettono in risalto la sua importanza. Comunque quando non c'è nulla da difendere mi mettevo anch'io a sparare lì da dove uscivano, perché se no io è una mob, ma quando mai la prendo? Quindi diciamo che per necessità ho dovuto anch'io fare un po' di spawn kill oltre a difenderli. Comunque appena c'era bisogno, eccomi pronto ad attaccarli quando stavano per uscire da lì. Comunque, questo video dura 20 minuti, già mi sta mancando il fiato perché non sono più abituato. Non sono assolutamente più abituato a fare commenti abbastanza lunghi e senza tagli, perché io ormai sono abituato a fare commenti con tagli oppure a fare live, perché comunque ci sono parecchi momenti di silenzio, di concentrazione. E quindi già mi sta mancando il fiato. Penso che uno degli ultimi video che ho fatto senza tagli risalga quasi a un anno fa, quando festeggiavo il compleanno di Xbox Italia. Magari vi metto la nota da una qualche parte che vi rimanda a quel video. Non prendetelo seriamente perché erano ancora le prime armi e quindi nulla di particolare. Ho preso una mob, sono morto e ecco la prossima mob. Come vedete col Barrett e l'MP9, sempre su Terraminal, sempre la stessa zona. Quindi l'MP9 tenderò a non utilizzarlo, salvo questa parte iniziale che ci avevano C e B come bandiere, quindi diciamo che l'MP9 era un qualcosa di necessario perché gli avversari non spawnavano solamente su A. Come vedete adesso farò tipo Rambo a evitare i proiettili dell'elicottero, dell'eliassalto che guardate mi spara ancora e io riesco a sopravvivere. Quindi un culo bestiale ma anche una gioia in quel momento quando ho visto che sono riuscito a sopravvivere e mi mancava comunque poco da specialista e siamo riusciti a prenderci, quindi la spawn kill era un qualcosa di netto. In questa partita che uso il Barrett tendo a stare in top terminal, che riesco subito a difenderci e quindi mi viene parecchio comodo. Gli avversari che non riesco a uccidere appena uscita lo spawn vengono comunque segnalati da ricognitore, quindi i miei avversari, i miei compagni di squadra scusatemi, che sono gli stessi di prima, quindi il colabrodo per intenderci, non che non siano bravi ma ero uno dei pochi che conosceva come si facesse spawn kill su questa mappa, quindi erano un po' alle prime armi diciamo, quindi da qui sopra riesco a gestirmela bene e provare a far diminuire il flusso degli avversari verso la nostra zona. Un'altra nota riguardo al fatto che i miei compagni non fossero comunque dei grandi esperti di spawn kill è che anche solo questo juggernaut aveva già cambiato spawn, quindi spesso e volentieri si spawnavano nella zona di C, nella zona di B e io da qui sopra dovevo far piazza pulita. Comunque non vi preoccupate, a me non piaceva l'idea di lasciargli il juggernaut, torno e do una mano al mio compagno ad ucciderlo. Quindi un po' con l'MP9 prima che inizi a spararmi mi prendo l'assista di uccisione al juggernaut. Comunque questa è la zona che mi piace tenere, mi viene facile, mi viene comodo, poi va ovviamente a gusti, c'è gente a cui non piace perché spesso si viene colpiti dagli avversari che fanno da mappa a mappa appena usciti dallo spawn, è uno dei posti più tenuti d'occhio anche quando arrivano dalla videoteca e quindi a molti non piace, devo ammettere che su terminal invece questo è il mio preferito in assoluto. Come vedete un altro avversario è riuscito a passare, riescono a ucciderlo però comunque io sempre pronto a qualsiasi evenienza. Comunque se vi mettete accordo con dei compagni a fare spawn kill su una qualsiasi mappa, tutti riuscite a prendere la mob. E una volta presa non c'è quasi neanche più bisogno di fare spawn kill perché il gameplay che vedrete dopo non stiamo facendo spawn kill. Io faccio spawn kill ma i miei compagni stavano giocando tranquillamente, quindi una volta che ci avete preso la mano non c'è neanche più bisogno di chiudergli allo spawn gli avversari. Imparate più o meno dove sono gli spawn e ho ripetuto 27.000 volte spawn ma chiedo perdono però altri termini per definirlo ce ne sono pochi. Luogo di rinascita sarebbe in italiano qualcosa di orrendo. Ecco qui un bel 4 fail sparati col cecchino grazie al cielo che l'avversario era scarso e non è riuscito ad ammazzarmi. E' veramente un qualcosa di un culo bestiale anche in questo caso. Adesso sparo al culo del mio compagno per rimanere in tema di culi, ma non riesco a prendere l'uccisione, prendo solo l'assistenza. E boom, quindi questa partita, questo gameplay, questo qui col cecchino è ormai agli sgoccioli, mi manca un po' che kill tendo ad essere un po' più attento in tutte le mosse che faccio. Prendo la mob, sempre tenendo gli avversari che arrivano dalla biblioteca, che diciamo è uno dei punti critici per quelli che invece stanno facendo spawn kill dai cassoni. E boom, prendo la mob e solo che questo gameplay non l'ho stoppato all'arrivo della mob ma l'ho mandato avanti perché da qui a fine partita non ho più fatto morti e mi sono fatto ancora un po' di uccisioni. Diciamo che dopo che uno prende la mob si inizia a sciogliere, quando sei lì sei tesissimo, cioè ti preoccupi che la mob debba arrivare una volta arrivata, spesso e volentieri si muore, oppure ti scioglie e riesci a giocare ancora meglio di prima, quindi diciamo che la mob è un tocca sana. Cioè comunque è bruttissimo che io in sette, ormai otto mesi non ho mai preso una mob, in due settimane ne ho fatte quattro. Adesso però a dire il vero non sto più giocando a Modern Warfare perché comunque giocare di spawn kill sì mi piace ma non è divertentissimo, va ammesso. E sto tornando su Aro in attesa dell'uscita di Halo 4 e mi sono accorto di quanto io non mi diverto a giocare, di quanto io non mi diverto nel senso la negazione che c'è, non so se anche da voi, tipo quanto non è bello sta a dire che è bello, quindi lasciamo perdere. Mi sono accorto di quanto mi piace giocare ad Halo, mi piace tantissimo e vi consiglio se non l'avete mai provato di giocarci anche voi, anche perché comunque sul nostro canale ce ne sarà tanto di Halo 4 siamo passati alla nuova parte di gameplay, questa qui è su DOM e sto utilizzando il Barret e le Magno Makimbo perché con Mirastabile sono qualcosa di speciale e diciamo che tenevo la zona da B uscendo su A ma se necessario tenevo anche quella da B uscendo su C. Ovviamente da solo perché eravamo partiti con l'idea di fare spawn trap ma essendo in 5 non in 6 non ci siamo riusciti perché avevamo un compagno che invadeva e quindi vabbè. Comunque se non avete capito niente della parte prima su Halo non vi preoccupate, sono io rincoglionito e non sono riuscito a spiegarmi come si deve. Mi sono accorto anche mentre lo dicevo di star dicendo mucchi di stupidate senza senso, quindi non vi preoccupate. Non è un problema vostro, non tornate indietro a risentirlo perché rischiate di poi avere problemi dal punto di vista mentale e di comportamento con le altre persone, avreste bisogno di delle cure psichiatriche e non voglio che i miei iscritti abbiano bisogno di quello. Quindi dimenticate tutto quello che ho detto riguardo a Halo, a parte il fatto che mi piace ovviamente, che mi sto divertendo a giocare e che sul nostro canale ci saranno poi parecchi gameplay di Halo 4. Questa è una mob giocata quasi interamente qui su Top Dom, anzi direi presente interamente fino a quando non mi stavo cagando addosso di morire, quindi sono andato per altre strade a cercare le ultime uccisioni e diciamo che cercavo di prendere gli avversari quando non mi vedevano e appena uscivano da lì. Ogni tanto cambio anche se avrei potuto fare altre uccisioni in modo che non siano sicuri della mia presenza, magari pensano che sono morto o cose simili, quindi ogni tanto mi sposto, tengo magari un'altra parte e buttandoci sempre un occhio su A perché se perdiamo A e si spawnano lì sotto, è la fine, veramente la distruzione. Poi invece, perché non ho ancora dato la mia impressione riguardo a Black Ops 2? Black Ops 2 va messo, è bellino, sembra essere un po' più bilanciato e un po' più divertente con sta storia dei perk, ma sicuramente non lo comprerò il Day 1. vedo se proprio tutti dicono, ah Black Ops 2 è bellissimo, magari un qualche soldino per prenderlo ce lo trovo, se no indicativamente lo prendo a Natale, sempre ovviamente se i commenti sono positivi. Quindi magari il gameplay di Black Ops sul subito non ne vedrete, magari lo facciamo comprare a Davi così vedete una qualche partita decente, non lo so, vediamo perché di sicuro con i soldi della partnership noi riusciamo a comprarcelo perché abbiamo dei guadagni infimi, direi orrendi per intenderci, da quando abbiamo la Farner avremo di guadagno guadagno una decina di euro neanche e ce ne danno ogni 200 o ogni 100, però it's a long story. Quindi abbiamo guadagnato poco, diciamo solo questo, non posso di sicuro comunque ovviamente non lo facciamo per i soldi perché sennò avremo già smesso, ci piace un casino metterle anteprime, le miniature sui video, è comodissimo far uscire il video quando si vuole e quindi non ci interessa dei soldi, non ci interessa anche perché comunque quello che facciamo, i giochi che prendiamo e tutto, l'HDPUR piuttosto che l'Helgato, li ho comprate io, con i miei soldi per passione perché mi diverte far video, quando vedo un video ben riuscito ne sono fiero e poi mi alleno perché anche a scuola mi chiedono, ogni tanto quando c'è bisogno di montare un qualche video di qualche uscita chiedono a me, quindi fa anche piacere avere un riconoscimento scolastico. Quindi questa MOAB penso sia una delle più noiose tra quelle che vi ho fatto vedere oggi perché sto tutto il tempo sdraiato, che paio un verme con questo Barret Autunno che è stupendo, spero di sbloccarlo oro al più presto, beh a parte che se non sto giocando ultimamente a Modern Warfare 3, campacavallo che l'erba cresce, di sicuro oro non diventa per conto suo. Comunque, vabbè, magari entro l'uscita di Black Ops 2 e riesco a portarmelo oro, penso di no, però vediamo. E per quello che riguarda Battlefield, è uscito Battle Fun, che è il video di Pera, ma le tattiche militari andranno avanti, non vi preoccupate, e magari un viduzzo ce lo butto anch'io, magari torno su Battlefield, non prendete nulla per vero, vediamo, vediamo cosa avrà in serbo per noi la vita. Mamma mia che paroloni. Vabbè, allora, qui non dovrebbe più mancare troppo perché mi rimangono un 5 proiettili nel caricatore e mi sto assolutamente cagando in mano, non mi rendo conto di quante kill mancano, appena scendo da un'occhiata me ne mancano tipo 22, qui prendo l'uccisione con la Claymore, ne prendo un altro paio, e poi adesso vi dico il preciso quando ho controllato, le kill che mi mancavano, qui ho controllato, difatti avete visto che sono stato fermo un po', io ho 22 uccisioni e 2 assist, quindi mi mancava una kill al prendere la mob, e vedrete tanti di quei fail che voi non avete, che un umano non può neanche immaginare, da ora in poi sarà un fail assurdo, gente che passa e che non li vedo, vabbè, vedrete il video e ve lo commento sul momento, commento sul momento, che roba orrenda, qui camping assurdo perché mi manca un'uccisione, c'è il mio compagno che mi stava dando una mano attirando le persone, Chef Viola che stava facendo una strage, ancora un po' prendeva lui la mob con tutti gli avversari che lasciavo passare, mi campo e aspetto il passaggio di un avversario, il primo passa e non lo ammazzo, ora, il secondo l'ho visto passare, ma figuriamoci se lo ammazzo, ora ne passeranno un altri, un altri, bruttissimo un altri, ne passeranno ancora un po' e alla fine riesco a prendere l'uccisione in una maniera orrenda, e morirò subito dopo, quindi i mob di, l'ultima uccisione è fatta di un culo pazzesco, come del resto anche le altre mob, sono pressoché di fortuna, ora ne vedo passare un altro, oh, dov'è? Non c'è? Non c'è? Si c'è? Oh, uno, due, tre, tiro fuori la pistola, sparo come un deficiente, prendo la kill e muoio, quindi prendo la mob, vengo ucciso per delle FMG9 orrende, quindi lasciamo perdere, però riesco a prendere la mob, qui, come prima, vi ho lasciato un'ultima parte gameplay, dove faccio un 3 kill belline con le magnum, ma io inizio a salutarvi, quindi, dopo questi 20 minuti, che mi sta mancando il fiato, penso che andrò a bere un paio di litri d'acqua, vi saluto, i prossimi gameplay, i prossimi commentari saranno scritti, perché mi rendo conto di non essere capace a farli in questo modo, il video di oggi finisce qui, un arriva e ciao, e al prossimo video! e al prossimo video! e al prossimo video! e al prossimo video!